Buongiorno cari amici e amiche di Scambiavolmente, terzo e ultimo video tratto dai dialoghi mediterrani di Simone Perotti a Catania, oggi mi focalizzo sui concetti della domenica mattina, video come ho sempre detto per fissare alcuni concetti soprattutto per me stesso, per condividerli con voi, per confrontarmi con voi, per estenderli a tutti voi e magari parlarne insieme o nei gruppi regionali o comunque in altri incontri che ci saranno sicuramente nel territorio italiano. Domenica mattina bello, molto bello come il sabato, però domenica mattina più interattivo, più coinvolgente perché abbiamo parlato tra noi, chi voleva, in modo molto libero ha espresso le proprie idee su un proprio progetto, su un cambiamento, su un'idea e lo ha fatto con tutti, davanti a tutti, con Simone in primis a coordinare i vari interventi. Io ho raccontato un po' l'esperienza di Scambiavolmente, chi mi segue la conosce, chi invece ha contato da poco, la conoscerà frequentando il canale. Insomma è stato molto bello, è quello che ha fatto la differenza sicuramente tra un evento normale, bello ma normale, dove sei passivo, dove ascolti, dove ti carichi anche di energia però, sei passivo e ascolti e questi dialoghi metterrani di Simone Perotti dove il pubblico è assolutamente parte integrante dei dialoghi. Allora Simone ha aperto la domenica mattina con il concetto di utile, quello che facciamo è utile, questa è una bella domanda, quello che facciamo è utile per noi stessi, per qualcosa, per un obiettivo alto, per un fine. Utile in filosofia è la coincidenza tra il coinvolgimento emotivo e il cambiamento effettuato, quando l'incontro tra il coinvolgimento emotivo provoca un cambiamento effettuato, quella è l'utilità assolutamente, che non vuol dire qui prendo in presso alcune parole del professor Saudino dove dice la filosofia non è utile in niente, non serve ad avvitare una lampadina, non serve ad asustare un televisore, non serve a usare il cellulare, però è un'ottima cassetta degli attrezzi per vivere al meglio il quotidiano e la nostra vita. Poi l'utilità si è unito al concetto di bellezza, perché, e qui andiamo sull'arte, l'arte non è utile in sé per sé per un fine pratico, però l'arte è contemplativa, ci aiuta a svelare ciò che non si vede, ci aiuta a comprendere ciò che ci circonda e ciò che non si vede a una prima occhiata. Qui vengo al concetto di Simone di respicio, rispetto a respicio, quindi il guardare meglio, il guardare una seconda volta, il guardare con più attenzione, il fare caso a dettagli che ci erano sfuggiti sicuramente a una prima occhiata. I romani univano bellezza e utilità anche per esempio nell'urbanistica, cioè le strade, le piazze erano belle e ovviamente erano anche utili nel vivere la città. La filosofia cosa deve fare? Deve essere utile al quotidiano, ma deve ovviamente urtare, deve scuoterci, deve pungerci, se no dormiamo e continuiamo a dormire su tante cose, sui punti filosofici di Simone Perotti sicuramente, molti di noi, io in primis, abbiamo dormito e se la filosofia non punge, non urta, non scuote, probabilmente perde la sua utilità per il quotidiano. Dobbiamo avere, secondo Simone, ma anche secondo tanti, un approccio calvinista, coparci di noi, avere costanza, avere manaccia, non demordere, avere un metodo, avere continuità. Qualche punto da evidenziare della domenica mattina, esplicitare gli obiettivi, cioè chiediamoci quello che ci piace tendere, ci piace raggiungere, ci piace anelare, vogliamo che sia presente nella nostra vita un futuro che oggi non c'è, quindi esplicitiamo gli obiettivi, esplicitiamo quello che vorremmo raggiungere, scriviamoli, diciamoli, mettiamoli su un post-it, sull'armadio di casa, però dobbiamo assolutamente renderli chiari e renderli visibili, come il marinaio, che quando sa dove andare poi va nel tempo giusto e con le correnti giuste. Se non so dove andare è una barchetta che gira in mezzo all'oceano senza meta, perdendo ovviamente tempo, risorse e energie. La responsabilità di lavorarci, prendiamoci la responsabilità di scegliere di lavorarci e dicendo no magari a occupazioni che ci facevano perdere tempo, dicendo no alla distrazione, dicendo no alla pigrizia, dicendo no all'indolenza, quindi scegliamo di occuparci di noi e non del mondo sempre, occupiamoci di noi, del perimetro, di chi siamo, delle scelte che facciamo, di cosa ci porta energia. Adesso sto dicendo i primi punti, però non andiamo sempre a delegare la politica, l'economia, la società, occuparci solo di quello che è fuori da noi quando non conosciamo quello che siamo dentro di noi, anche la molteplicità dell'identità che è un tema che è molto caro a Simone. Quindi siamo onesti con noi stessi, siamo sinceri con noi stessi, siamo trasparenti e chiari con noi stessi e occupiamoci di noi prima che del mondo, se no come facciamo a dare un apporto attivo, bello, forte, robusto al mondo quando non sappiamo neanche chi siamo e quindi non scegliamo bene per noi? Siamo monaci della nostra vita e rendiamo sacro il monastero, ma rendiamo importante, proprio come un monaco che ha continuità, che ha ritualità, che tutti i giorni fa una certa cosa per arrivare a un certo obiettivo, quindi siamo monaci di noi stessi, della nostra vita e di quello che ci interessa tanto, che siamo noi, che siamo le nostre identità, che siamo le nostre scelte, che siamo le relazioni che scegliamo, che siamo le scelte che facciamo, quindi ecco poi volevo chiudere con un concetto che mi è piaciuto tantissimo di Simone che l'ha fatto dopo l'intervento ed è questo, cioè portiamoci il problema, chiediamoci che cosa porta di me con gli altri o nel mondo, che cosa do, che cosa c'è di mio negli incontri che facciamo, che cosa portiamo prima di ricevere, prima di andare magari fuori a una serata, a un incontro che ci interessa, a una conferenza, a teatro, al cinema, a un incontro con gli amici, quindi per prendere dell'energia, chiediamoci che cosa portiamo, chiediamoci che cosa diamo, chiediamoci se noi portiamo dell'energia per scambiare dell'energia e per porre la relazione in modo assolutamente equilibrato, armonico e autentica, quindi prima di pretendere, prima di ricevere il dare è sempre la cosa più importante, la componente più importante che ci pone in un equilibrio, altrimenti siamo un po' dei vampiretti, no? Ragioniamo sempre, vado lì per prendere, vado lì per ricevere, ma io cosa porto, che vantaggio do, qual è il mio valore aggiunto che posso dare a una relazione, per renderla bella e importante, altrimenti c'è uno squilibrio e se si ragiona sempre è solo sul prendere e non sul dare, non c'è assolutamente base per la relazione equilibrata, quindi siamo consapevoli delle cose che funzionano e delle cose che non funzionano e cerchiamo di tenere un equilibrio bello, sano, armonico nella relazione, chiedendoci cosa diamo, cosa portiamo, invece di pretendere sempre di prendere senza dare assolutamente. Ok, io sono fino al termine di questi tre video, è stato un mio modo per confrontarmi con voi, per raccontarvi quello che mi è rimasto dentro, poi magari qualcosa l'ho sbagliato, qualcosa l'ho intesa male, sono aperto a correzioni, a punti di vista insieme. Io ho ancora grande energia, ho un progetto bello dentro, ve l'ho raccontato ai dialoghi, ho ancora tantissima voglia, insomma, di occuparmi di me e di trasmettere magari questi concetti di Simone, a chi Simone lo conosce poco, ma è chiaramente urtato da questi concetti che come la filosofia devono punterci, scuoterci per svegliarci un po', ecco, svegliarci un po'. Ricordo sempre che all'inizio dei punti filosofici, dei dialoghi di Simone, lui dice siamo uomini e donne strangolati da, e poi comincia la lista, quella parola strangolati è veramente molto molto incisiva e deve farci riflettere, essendo noi stessi molto sinceri, molto onesti, che non è una caratteristica facile, non è una caratteristica semplice, ma se siamo onesti e sinceri possiamo dare un nome a quello che ci strangola, a quello che ci stritola. Vi ringrazio per l'attenzione, io sui miei profili, YouTube, Facebook, Instagram o TikTok sono molto aperto a condividere con voi questi punti, a approfondirli, affrontarli, magari correggerli se avessi capito male, grazie per l'attenzione e ci vediamo sicuramente in gruppi regionali, altri eventi a Catania, ormai il gruppo è compatto, ormai il gruppo è molto unito, sta a noi farlo crescere, sta a noi trasmetterlo a persone che magari non ci conoscono e non conoscono Simone, ma con entusiasmo, con spontaneità e con l'energia è bello raccontare quello che ci fa stare bene e sicuramente i dialoghi mediterranei di Simone Protti sono stati una iniezione di benzina energetica importante. Alla prossima!